Voglio raccontarvi la storia di quell'automobilista italiano che investì un povero ciclista cinese il quale finì in ospedale. Dopo qualche giorno l'automobilista sentendosi in colpa decise di andare in ospedale a trovare il povero marcapitato. Arrivato in ospedale cominciò subito a giustificarsi, scusandosi, dicendo che era stato un incidente e ovviamente non l'aveva fatto apposta e si preoccupò delle condizioni fisiche del povero ciclista cinese il quale guardando anche un po' impaurito l'automobilista italiano gli disse si c'ha ma già ta già e l'italiano non capiva, il cinese continuava a ripetere si c'ha ma già ta già l'italiano continuava a non capire, il cinese continuava a ripetere si c'ha ma già ta già parlando sempre più a fatica tanto che l'italiano iniziò ad andare nel panico a guardarsi intorno cercando qualcuno che lo aiutasse a capire quello che diceva il povero ciclista cinese il quale a un certo punto con un ultimo filo di voce disse si c'ha ma già ta già e morì. a quel punto il povero automobilista italiano non solo era dispiaciuto ma aveva anche questo forte dubbio di che cosa avesse voluto dirgli il povero ciclista cinese e passarono i giorni passarono le settimane questo dubbio sempre più forte, questo pensiero fisso tanto che l'italiano decise di andare a mangiare in un ristorante cinese e con la scusa fermò un cameriere cinese gli chiese cosa vorreste dire si c'ha ma già ta già e il cameriere cinese guardando l'italiano anche un po' stupito gli rispose togli i piedi da ossigeno e dell'italiano Grazie.